A Vinovo, presso il castello della Rovere, si è tenuta la seconda edizione della mostra intitolata Fili magici, organizzata dalla Proloco di Vinovo e dall'associazione Quadrifoglio di Pino Torinese, con il patrocinio della regione Piemonte, della provincia di Torino, della città di Torino e del comune di Vinovo. Fili magici, organizzata dalla Proloco di Vinovo e dall'associazione Quadrifoglio di Vinovo e dall'associazione Quadrifoglio di Vinovo. Il pubblico ha potuto ammirare 47 tecniche diverse di ricamo e merletto, applicate a raffinati capi di arredamento, abbigliamento, gioielli e oggettistica varia. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet all'indirizzo www.amoelricamo.it www.amoelricamo.it